Ciao Marghe, che piacere averti qui a venti, grazie mille. Grazie a te. Siamo qua per raccontare un po' quello che sta con la tua storia, ma anche il tuo nuovo album Bingo, e partirei prendendo in prestito un titolo di una canzone che è Come va? Come va? Benissimo, in realtà benissimo perché quando esce il disco c'è proprio tutto un vulcano che erutta, quindi sono contenta, va bene, va benissimo, nonostante il mondo versi in condizioni, insomma, claudicanti, però sono molto contenta. Volevo cominciare a chiederti una cosa anche un po' scema, ma la canzone Come va nel disco mi piace molto perché è la risposta sincera alla domanda, ognuno si dice Come va? Bene, oppure benino. Due minuti e mezzo di risposta. Esatto, cioè, qual è l'ultima volta che ti è capitato di rispondere così oppure che qualcuno ti abbia risposto in modo così sincero a questa domanda? C'è una cosa che ti capita di... Beh, mi capita perché ci sono delle persone nella mia vita, non tante, con cui proprio serve poi parlarsi un attimo, fare il punto e dirsi sinceramente come va, come stai, anche cosa posso fare per te, oppure raccontami che ti succede. Quindi ho appunto, che ne so, mia cugina Alice, quella per cui ho scritto Pincio, sono telefonate dove il come va ha un suo, no? Perché poi ogni tanto uno dice solo, no, no, bene, bene, poi magari ti racconta più tale. Ogni tanto invece proprio come va e si affronta la questione. Senti, ho visto in molte tue interviste che c'è questa domanda che io oggi ti risparmierei che è ti senti più autrice, senti più cantante, insomma, questa roba di mettere le percentuali all'arte mi sembra un po' noiosetta. Quindi provo a dirti, ma invece l'esigenza che ti porta su un palco, nelle varie forme, ti sei chiesta da dove arriva? Sono sicura che arrivi dalla mia infanzia, nel senso, quello che ho visto da piccola, che succedeva sui palchi, diciamo l'energia che mi ha travolto, che ne so, quando mia madre mi portava a vedere i musical, piuttosto che c'è uno spettacolo in particolare che si chiamava Lord of the Dance, dove c'erano 40 ballerini di danza celtica irlandese, quindi pensa anche dal punto di vista del suono, tutti questi tacchetti. E io mi ricordo avevo tipo sette anni e ho detto, vabbè, ma se sul palco succede questo... Voglio stare là. Devo fare, cioè, devo stare là. Quindi è un po' quello, sicuramente il primo, però ho visto le Spice quando avevo undici anni, insomma, una serie di esperienze sotto i palchi che mi hanno fatto capire che il palco è un posto divertente, ecco. Ho due stimoli di conversazione. La prima è che io il primo concerto che ho visto in mia vita è stato Madonna all'Olimpico, quindi anche lì ho pensato, avevo undici anni, quindi anche un po' precoce, cioè un pochettino... Ti ha scandalizzato, diciamo. Un po', sì. Cioè, lei comunque stava su una croce mezza nuda all'epoca, quindi era comunque visivamente d'impatto, però ho pensato questo è performare in un senso più ampio, no? E il secondo è che hai detto una parolaccia, cioè musical in Italia non si può dire. Non si può dire. No, infatti io devo sempre mettere delle mani avanti, metri e metri, perché il musical per me è la cosa più figa che esista, però lo devo sempre dire sotto voce. E poi quando invece al liceo classico il professore di latino e greco mi ha spiegato come funzionava in letteratura, come funzionava il teatro antico, ho detto, ma guarda, guarda che c'era tutto, guarda che c'era la musica, la poesia, il coro che ballava, c'era tutto, infatti è la forma d'arte più grande che ci sia, però questo non è cool dirlo. Quindi dovremmo fare un rebranding del musical? Cioè trovare un modo per metterci un po' di greco, latino e greco? Sì, un po', beh, ma se pensi, che ne so, Battisti che è il mio in assoluto, Battisti e Mogol sono i miei fari, nel senso i miei artisti preferiti, diciamo, erano delle piccole sceneggiature, quindi io, per me anche quella è un musical, anche se non è il musical, no? L'opera rock, eccetera, però mi sono svegliata con, c'è un treno che parte alle 7.40, per me è un musical. Ma anche ce ne sono tantissime, anche Innocenti Evasioni, loro hanno proprio un modo di scrivere in musica che è molto narrazione, che poi in realtà è simile anche a quello che fai tu, ce lo ritrovi un pochettino. Ma infatti Innocenti Evasioni è proprio detto quella che mia madre da ragazzini, quando avevamo 7-8 anni, ci faceva mettere in scena, cioè famoso il pomeriggio, Innocenti Evasioni, ok, tu fai l'amante, tu fai il marito, tu fai la moglie, mette il giradischio, ok, dai, tra due ore torno, mettetela, preparatela, e quello era il gioco. Ecco, quindi io sono cresciuta ascoltando Battisti come se fossero dei musicarelli. Beh, bellissimo, tra l'altro io, anche mio papà, molto fan di Battisti e di quella canzone specifico, che però mi sorprende, perché lui non avevo molto distinto, però Stava Innocenti Evasioni lo spezza, cioè la roba di… Lui che gira il sugo con… Ma perché hai anche recitato il cantato, cioè lui che ti porta dentro il racconto un po' come fai tu. Io, un'altra cosa che ti volevo chiedere, in realtà è una confessione, io non ho mai visto i Cesaroni e non sapevo la tua carriera di attrice, comunque è altissimo livello, cioè hai recitato con Woody Allen, insomma ne hai fatte tutti i colori, però per me tu eri una cantante, nel senso che l'ho scoperto dopo, l'ho recuperato dopo. È una cosa che hai percepito, cioè hai percepito lo scetticismo su questa tua duplice attività? Sì, un pochino di scetticismo un po' l'ho vissuto sulla pelle, un po' perché come ti dicevo ci sono dei pregiudizi sulla tv in generale e poi perché ah vabbè ma magari lì dicono ah ma lei è la cantante che recita e invece è l'attrice che canta, non le interessa fino in fondo, in realtà a me mi interessa fino in fondo, ho fatto l'accademia eccetera, però uno deve anche poi campare, quindi è anche lavoro, no? Direi proprio di sì, arriverai alla parte seria dell'intervista, ovvero quella in cui parliamo di Beyoncé, nel senso che ho letto che tu mi dicevi, cioè tu non mi dicevi, io leggo, però mi sembra di averti ormai conosciuto che ho letto tanto di quello che hai raccontato in questi giorni, che ti piace il fatto che lei performi a 670 gradi, cioè che è veramente difficilmente inscatolabile, io ho visto il suo documentario su Netflix, mi pare fosse su Netflix e comunque dici questa non fa lo stesso mestiere che vedo fare da altri, cioè è una roba un po' diversa. No, 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 è proprio invasata, non si sa da chi, da cosa, tant'è che esiste la chiesa di Beyoncé che un giorno credo, esiste una chiesa a Chicago credo, dove recitano la messa, dove venerano Beyoncé, c'è la messa con i testi delle sue canzoni, tutto di empowerment, vabbè detto questo mi sento sempre un idiota a dire chi è la tua artista di riferimento? Beyoncé, cioè mi sento una cogliona a dirlo a 30 anni, però è vero, perché soprattutto negli ultimi anni, quasi ormai dieci anni, da quando è un po' più adulta, non solo mette intrattenimento a altissimo livello, performer quindi è una ballerina anche pazzesca che si è inventato un modo di ballare, ma poi mette anche contenuti, detto così sembra poco, ma invece che il pop abbia un po' di contenuti non è male. Ho letto sempre che tu al tuo primo concerto hai fatto le tue prime canzoni e poi hai aspettato quei due secondi per l'applauso, no? E riflettevo sul fatto che già deve essere difficile fare un lavoro in cui tu ti esponi così tanto al tuo pubblico, cioè comunque già fare l'attrice o la cantante è complicato, ma fare entrambe le cose per un applauso mi sembra che c'è una roba impegnativa a livello personale, cioè quella validazione lì cosa vuol dire per te? Sei mai interrogata su cosa significhi mettersi davanti alle persone e aspettare un applauso, cioè? Tu dici, ti sei scelta non uno, ma due lavori dove tutto si basa sul tuo apprezzamento. Io morirei d'ansia, ecco, sì. Beh, sono molto diversi perché per esempio la cosa atroce del fare l'attrice dei casting è che proprio tu entri, fanno cammina fino a lì, no, no, ok, grazie, no, proprio lì per esempio l'involucro conta tantissimo, però una volta che fai i provini sai che funziona così e non c'è neanche niente di male, nel senso sì, c'è chi te lo può dire in modo sgradevole, però quello è il punto di partenza, cioè l'attore deve prestare il suo corpo, quindi lì è un tipo di relazione. Le canzoni è tutta un'altra cosa perché è tutto un lavoro, no, molto più, cioè l'apprezzamento poi passa attraverso lettere, messaggi, applausi proprio tangibili, no, sotto il palco, è ben diverso, però chissà, dice tanto di meno, non lo so, io vengo da una famiglia con quattro fratelli, forse questa voglia innata di ci sto pure io, non lo so. Quando ho sentito Giubbottino ho pensato, oh, finalmente, perché io da tutta la vita che vengono in facciate cose che nessuno mi ha mai detto, ho pensato, ma è giusta sta cosa qua? Assolutamente no. E ho pensato, minchia, finalmente qualcuno mi dice parlate, che è una cosa molto utile, cioè nel senso. No, ma poi è anche, è proprio, cioè Giubbottino è proprio dedicato alle ragazze, non, cioè, esatto, se c'è qualcosa che sappiamo che vorremmo fosse, che cambiasse, bisogna quantomeno iniziare a comunicarlo, perché sennò veramente si rischia il vittimismo degli uomini e poi, no, tutte quelle categorie, che ne so, di in cell, che poi magari diventano dei pericolosissimi terroristi, che non dice, eh, ma solo perché non c'hanno mai avuto la fidanzata, ma, cioè, com'è possibile, capito, che sì, sono così, è tutto così concatenato anche con la relazione, no, tra, appunto, sessuale o di, di tutto molto complicato, però no, sono contenta che Giubbottino ti sia... Sì, mi ha fatto pensare, madonna, che, cioè, finalmente, proprio perché, comunque vada anche il fatto, ovviamente, di parlare di sesso e di dire al tuo uomo di tutto, cioè, erano cose che sembrano... Sì, c'è il tuo uomo è il tuo uomo, cioè... Cioè, sembra una rivoluzione, ma in realtà... No, ma perché l'ho vissuto sulla mia pelle, io pure, ma credo che tutti le vivano, alcune storie d'amore, magari all'inizio, che ti fai dei problemi terribili per dire delle cose che poi, dopo un po', con, a un certo punto, che sei un po' cresciuto, con la persona con cui stai, non c'è nessun problema, puoi benissimo dire quello che ti pare. Ma non è che non c'è un problema, è anche molto funzionale, non so come dire. È anche molto funzionale, e lo so, non è così difficile, ci sono, insomma, esistono anche coppie che stanno insieme, ma magari non si sono detti le cose principali e quindi c'hanno dei rodimenti interiori, latenti, che stanno lì sotto le lenzuola e quando... Quindi, come al solito, nelle canzoni le dico soprattutto a me, cioè, mi do due sberle e dico tu al tuo uomo, digli tutto, perché poi è meglio per tutti, capito? Altro tema molto presente nell'album, molto presente nell'album con la religione, mi appassiona che tu abbia parlato anche senso di colpa nel pezzo che parla della religione, perché ho sempre trovato una delle cose più violente del pensiero cristiano, ma in realtà religioso in generale, quello di associare la colpa al sesso, che è una roba abbastanza difficile da capire. Spesso anche molto associata al sesso femminile. Molto, sì. Ci sono contesti che hai frequentato molto crescendo, quelli religiosi, o comunque ti è capitato, cioè, perché ne parli qualcuno che ci ha avuto a che fare, ecco. No, ho avuto a che fare, mi ha anche molto interessato, diciamo, è proprio, viviamo in una cultura cristiana, quindi a un certo punto ho avuto una fase in cui, diciamo, andavo un po' a leggere, proprio questo da adulta, no? Vengo da una famiglia non credente, quindi non sono, cioè, però sono molto andata a messa da bambina, perché vivevo appunto in provincia di Piacenza e avevo un'amichetta da cui passavo tutto il, no, dormivo il weekend tutti i sabati, ci svegliavamo la domenica e la madre ci teneva che andassimo a messa, quindi andavamo a messa, però avevamo una grande ricompensa, cioè, se noi andavamo a messa ci comprava il cioè, quindi per me andare a messa voleva dire avere Leonardo Di Caprio sul cioè ogni domenica, vedi, è sempre molto, cioè, o avere il rossetto, il lecca lecca, quindi io a messa ci andavo e anzi dicevo, ma andiamo oggi a messa, perché sapevo che fuori dalla messa c'era il cioè. Intanto il cortocircuito di, ah, cioè, Leonardo Di Caprio di Dio, certo, ma infatti perché io l'ho. Ma no, ma il cortocircuito perché per portarti a messa ti prometteva qualcosa di profondamente ormonale come Leonardo Di Caprio, che è molto bello, ma poi mi diverte il fatto che, cioè, mi stavo chiedendo quando ti mi raccontavi dov'è il trucco, cioè perché tu continuavi ad andarsene a dormire se poi non c'era un… Certo, no, no, io perché mi intesa parecchio, però perché ne parlo molto in… Sì, tra l'altro c'è il featuring, questo coro di bambini a cui gli ho fatto dire delle cose… Sì, è molto bello. Un po' tipo, io speriamo che me la cavo, era proprio… l'ho rivisto in quei giorni perché volevo fargli dire qualcosa… perché io speriamo che me la cavo, i ragazzini dicono delle cose grevissime, parolacce, ma poi sono proprio dei piccoli adulti con la loro identità, quindi volevo anch'io un coro di bambini che dicessero voce dell'innocenza, io ho il senso di colpa, non ce l'ho, siete voi che me l'avete messo e anche a mia madre le rompete… cioè, no, capito? Di fargli dire una roba molto schietta e poi di dire, forse anche un po' quella più esagerata, però dice il bambino che sinceramente dice, no, ma io non sono figlio di Maria Felice, io sono figlio di… come dire… Paola e… Di Paola e Giovanni, nel senso hanno la loro… Mi piaceva dare una visione estremamente terrena… Beh, loro dicono vogliamo la Nutella, non la… Non voglio la Nutella, è il peccato! A voi, ma certo, ma a tutti piace più la Nutella della fetta biscottata, è inutile che ci ricamate, diciamo, tutti questi… queste tragedie, quindi così ho voluto un po'… Vabbè, poi tutto era nato dal Margherita Hack, che è il mio idolo, e ho visto Dialogo su Fede e Scienza tra Margherita Hack e il Monsignor… Bello! Non l'ho mai visto! No, lo devi vedere, lo devi vedere su YouTube… Dialogo su Fede e Scienza… Signore, lei cosa ne pensa dell'infinito? E la Hack che dice, ma, guarda, l'infinito, una particella di idrogeno forse che rimane nelle… E invece, ovviamente, il buon signore, il cardinale di Verona, tra l'altro era… Il vescovo di Verona dice, beh, è infinito, è nell'anima… Ed è molto interessante… E Troppi Pelle e Troppi Suare nasce da quella cosa lì… Cioè, contrapporre la ricerca artistica e scientifica alla staticità del dogma… Molto bello, e devo dire che questa roba della fetta biscottata mi fa molto vedere perché il mondo si divide sulle fette biscottate… Ci sono le persone un po' più aride che tendono a metterti un cucchiaino ma spalmato, sai, con uno strato così file che neanche la senti nella Nutella… E chi invece proprio ti riempie sta cazzo di fetta biscottata sono delle belle persone… Esatto… Questo secondo me è una cosa da ricordare sempre… Fine del mio incipito sulla fetta biscottata… Esatto, e sulla religione anche… E sulla religione… No, infatti stiamo sereni… E ti volevo chiedere una cosa invece più scema che… Me lo dicevano anche a me da piccolo che avevo gli occhi tristi… Quindi mi faceva ridere questa cosa qua… Poi ho ascoltato Pincio e ho pensato… Ma non è che sei solo anche tu una nostalgicona… Perché io ho capito dopo che era nostalgia, cioè più che tristezza… Cioè ero molto consapevole del tempo… Io mi sa che quando ho detto gli occhi tristi… Era perché da piccola avevo degli occhi… Cioè ce li ho ancora adesso grandi… Ma da piccola sul muso erano proprio due occhi così… E quindi tendevano proprio ad andare in giù… Perché erano un po' sproporzionati… Cioè pesavano… Per un cucciolo, sì… Erano un po' all'ingiù… E quindi ho certe foto da piccolo… E dico… Ma io ero un po' tristina mi sembra da piccola… In realtà sono sempre stata un po'… Come dire… Un po' lamentosetta… Un po' tribolatina anche da piccolo… Però… Profondamente… Come si dice a Roma… Dolciotta… Nel senso… Pincio è proprio… Smielatissima… Come mai hai scelto nella tua regia di far suicidare il trapper? Cioè non è una domanda trabocchetto… Mi incuriosisce proprio l'idea… Cioè è un racconto molto atipico… Un po' perché… In generale mi… È un gesto che mi colpisce molto… E che so che purtroppo succede spessissimo… L'ho anche visto da vicino… Quindi… È un mondo per me molto importante… Importante nel senso… Anche un po' ha segnato la mia vita… E… No… Una storia del genere… Quindi sicuramente… Mi sa che l'ho messa in una canzone anche per me così importante… Perché ha fatto parte della mia vita… Poi perché l'ho fatto fare un trapper… Non lo so… Perché… Perché… Mi devastava l'idea che fosse fico stare male o… Mi dispiace quando vedo che fa fico essere tribolati… E io tendo… Se no forse non avrei fatto un disco che si chiama Bingo… Dove uno è felice e c'è la copertina che suona al massimo della gioia… È ovvio che… C'ho dei momenti tragici e lavoro su me stessa… Però di base… Meglio… Per quanto mi riguarda… Tenere il buono anche delle cose… Tragiche… Una cosa proprio… Un po' coraggiosa e un po' utile… Fare uno sforzo di essere… Sì… Cioè… Di essere una presenza positiva… Nelle orecchie delle persone… Non è scontato… Cioè… Penso che appunto… Gli artisti che poi fanno anche di questa vitalità… Un po' il centro del loro lavoro… Non è che lo fanno perché… Sono sempre felici e allegri… Ma perché scelgono di provare a fare una cosa… Pensa ai grandi attori comici… Che poi sotto sotto… Certo… Che hanno sotto dei disastri… Che hanno sotto dei disastri… Però hanno sempre usato il proprio sorriso… La propria vitalità… Anche per affrontare i loro disagi totali… Però… Volevo parlare un attimo con te il primo maggio… Tu hai fatto una cosa molto particolare… Avevi con te l'orchestra… Multiettica di Arezzo… So che andranno con te anche il tour… Tra l'altro… Volevo chiederti un po' come nasce questa idea… E in generale… Cosa ci aspetterà quest'estate… Dove finalmente dovremmo riuscire a vedere sotto un palco… No… Allora innanzitutto devo subito specificare… Cioè… Tu sopra un palco… Devo specificare… Che si tratterà di due tour ben distinti… Quindi non uno… Ma due… Sperando che il Covid ci lasci… Insomma… Esercitare il nostro lavoro… Però… Saranno due tour… Uno con l'orchestra multiettica di Arezzo… Con cui c'è un progetto legato al best seller… Storie della buonanotte per bambini e ribelli… Dove si miscoleranno i repertori… Sia… No… Di musica che viene da tutto il mondo… Dell'orchestra… E canzoni mie… Riarrangiate per orchestra… E grandi classici… Insieme alle storie delle bambine… Quindi una specie di spettacolo concerto… E poi invece il mio tour del disco… Con la mia band… Cinque elementi… Insomma… Il disco… Quindi… Che ci aspettiamo… Un sacco di… Di lavoro sicuramente… Cosa si è mancato di più di questi… Dei concerti… O comunque dei palchi appunto… Perché poi concerti un po' limitanti per te… Ma… Per fortuna l'anno scorso… Nonostante la pandemia… Ho fatto veramente tante date… L'estate scorsa… Quindi… Sono andata in un sacco di posti… Certo… La gente è seduta con le mascherine… Mi manca un po' di sudore… Ecco… Dai… Chiudo con una battuta… Cioè… Tu potresti passare per Ruffiana… Te ne rendi conto… Perché hai un sacco di temi… Un sacco di cose… Fai bravo a fare l'attrice… La cantante… E invece io quando pensavo… Ascoltando Mandela… Ho proprio pensato… Questa è la canzone… Meno di Tascarica del mondo… Cioè io ci ho messo… Cinque ascolti… A capire di cosa parlasse Mandela… Cioè… No… Zero di Tascarica… È vero… Perché è detrale… Perché uno… Se uno ti guarda da lontano… Dice beh però il femminismo… Una cosa… Invece poi… C'è proprio una roba che… Anzi… Non è che ti aiuta… Non è che ammicca… Cioè dice… Vieni qua che ho sto tema facile per te… Cioè Mandela racconta… Non c'è neanche una roba… Buona… No anzi… Poi molti mi hanno detto… Ma sei pazza… Ma prendivi in giro… Ma fai il verso… Ma infatti… No in realtà… Sai cosa… Più che Ruffiana… Ho rischiato veramente… Di essere tacciata… Anzi… Mi l'hanno detto in molti… Di essere una buonista… Io… Quando in effetti ho scritto Sorridi Mandela e questo è il tuo posto… Proprio ho guardato il mio produttore e ho detto… Siamo sicuri… Scrivo questo ritornello? Perché io me l'accollo eh… Però poi… Sembra veramente… No… E poi ho detto… Ma sai che c'è… Come se ci fosse una bambina di sette anni in me… Ho detto… Diamole retta… Nel senso… Ho detto… Chissà… Come verrà… È una frase un po' forte, no? È tutto bello… Il mondo è tutto bello… Sono dei temi talmente complessi… Che è difficile poi affrontarli… Quindi devi prendere una scelta… E ho scelto di essere un po' così… Innocente… Tu non credi al linguaggio dei segni… Credi nel significato dei sogni… Nel senso dei sogni… Nel senso dei sogni… Quindi ti va di raccontarci un tuo sogno recente… Cosa pensi possa significare? Sogno spesso di perdermi borse, valigie, pezzi… Sogno che ho le gambe pesanti… E magari in un momento in cui devo correre perché c'è un pericolo… Sono rallentata… Purtroppo faccio un po' di sogni di questo tipo… Un po' perché faccio tante cose… Un po' perché sono distratta tipo il pesce Dori… Per cui mi dimentico le cose… Ma parli anche balenese? No… Beh, ora più o meno l'ho fatto finora… Parlo balenese… C'era Dori… Mi ricordate di Dori che fa… Parlo con le balene, con le tartarughe… Cioè… Cioè… E quindi mi sa che questi sogni che faccio… Me li porto un po' nella vita vera… Nel senso che… Se ho un appuntamento cerco le chiavi del motorino per… 20-25 minuti… Oppure ho tutto pronto… Le valigie, il treno che parte, il cellulare… Non so dov'è… E in realtà ce l'ho… Nella tasca… Nella tasca… Capito? Non… Queste cose così… Va bene Margherita… È stato un grande piacere averti qua con noi… Grazie a te… Noi regaliamo sempre ai nostri ospiti un libro… Io per te ho scelto un libro… Un po' pornografico… Spero non ti offenda… Ficco… Però si chiama… Club Godo… È di Junplà… E l'ho pensato perché… Insomma… Ti dicevo prima… Era molto… La musica è molto libera e necessaria… Quindi stenevo… Un libro che ho ritenuto molto libero… Ma è un romanzo? È una guida al piacere… Aha… È una cosa veramente incredibile… Grazie… Grazie a te…